Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Volti noti della politica in tour elettorale oggi è toccato a Giorgia Meloni che dopo la mattinata trascorsa a Pesaro nel pomeriggio ha incontrato la marineria fanese 30 anni fa il gemellaggio tra le città della fortuna e la cittadina tedesca di Reichstag per festeggiare l'anniversario il sindaco ha annunciato un programma di eventi battuti tutti i record in 20.000 nell'ultimo fine settimana la rievocazione storica del trionfo del carnevale a Fossombrone Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia prima di cominciare di andare avanti con la scaletta del telegiornale partiamo da quel fatto di cronaca quel fatto di cronaca che già dalle prime ore del mattino quando il resto del Carlino ha pubblicato la notizia in esclusiva ha fatto il giro della città perché è una notizia a dir poco inquietante ovvero quel tentativo di estorsione ai danni di una nota azienda forse la più importante della città di Fano che occupa 700 persone la Profigla sebbene i fatti due persone di origine napoletana che adesso sono finite in carcere avrebbero tentato di estorcere 30.000 euro ai fratelli Paci titolari della Profiglas che ha sede a Bellocchi di Fano un'azienda di 700 dipendenti da una ricostruzione da quanto si è appreso leggendo appunto il resto del Carlino una prima volta una prima richiesta di denaro è andata a buon fine per gli estorsori alla seconda richiesta però alla richiesta di 30 ulteriori 30.000 euro i due industriali hanno chiamato invece i carabinieri per aspettare gli estorsori al ritiro del denaro ritiro che puntualmente è avvenuto sotto gli occhi dei militari e sotto gli occhi delle telecamere che hanno registrato tutto quanto i Paci come dicevo hanno chiamato i carabinieri che coordinati dalla Procura della Repubblica hanno teso la trappola ammanettando i due estorsori i nomi non sono ancora noti si cerca adesso di risalire ai mandanti di questa estorsione e di capire se le minacce arrivate alla Profiglas potevano avere una reale potenzialità e quindi essere messe in pratica c'è stata oggi l'udienza di convalida degli arresti in flagranza i due arrestati si sono giustificati dicendo che quei soldi gli spettavano per un lavoro un lavoro che avevano fatto alle dipendenze dell'azienda alle dipendenze dei fratelli Pace appunto ai quali però non risulta assolutamente tutto questo ed è per questo quindi che l'ipotesi da parte degli inquirenti che possa trattarsi di emissari pronti ad aprire nuove infiltrazioni in territori finora immuni dal pizzo e da qui l'estrema importanza e di spiegamento di forze per il buon fine dell'inchiesta e adesso invece parliamo della visita che l'onorevole Giorgia Meloni ha fatto nella città di Fano dopo essere stata nella mattinata a Pesaro la Meloni ha incontrato i pescatori lo ha fatto nel porto di Fano simbolo della cattiva gestione della cosa pubblica in quanto il porto di Fano ormai è noto aspetta il dragaggio da ormai tantissimi anni accompagnata dai leader locali e dai candidati alle prossime elezioni del partito la presidente di Fratelli d'Italia Allianza Nazionale Giorgia Meloni si è recata prima in mattinata a Pesaro e poi è stata accolta nel pomeriggio dai pescatori e vongolari del porto di Fano dopo una breve diretta su Sky intorno alle 15 l'onorevole ha raccolto le lamentele dei pescatori la categoria infatti contesta l'assenza di un dragaggio completo il regolamento dell'Unione Europea che fissa 25 mm la taglia minima per la pesca della vongola ma anche la distanza limitata dalla costa in cui poter lavorare i pescatori gli hanno spiegato quali sono i problemi che li stanno affliggendo è una guerra aperta contro l'Europa beh Fratelli d'Italia al porto di Fano ascoltare le rappresentanze dei pescatori di un altro pezzo di economia reale massacrato da un'Europa insensibile ai bisogni degli italiani ma anche da un governo nazionale e da un governo regionale qui nelle Marche che non sono stati capaci neanche negli ultimi 20 anni di dragare il porto si possono fare cose semplici per aiutare chi produce ricchezza ogni giorno con il sudore da fronte piuttosto che aiutare solo le banche e l'economia virtuale per quanto riguarda le elezioni regionali come reputa il comportamento di Forza Italia ma guardi io lo reputo incomprensibile perché non solamente qui il rischio che Forza Italia alla fine giochi a fare l'utile idiota della sinistra è un rischio reale insomma tra Spacca e Ceriscioni la differenza è nulla uno era presidente della giunta e uno era il partito di maggioranza relativa fatto sta che hanno governato insieme negli ultimi 10 anni e votare per uno dei due significa votare per la sinistra che ha governato negli ultimi 10 anni non so come questo possa interessare a chi si definisce un'alternativa so che noi che vogliamo invece rappresentare un'alternativa seria abbiamo costituito questo fronte anti Renzi che vede Fratelli d'Italia anche con altri alleati abbiamo candidato Francesco Acquaroli giovane sindaco di Potenza Picena alla guida della regione Marche pensiamo che si debbano rompere gli schemi con chi ha responsabilità molto forti sul governo di questi anni e se qualcuno che si dice di centrodestra gioca a fare la stampella della sinistra non è la storia nostra e Francesco Acquaroli era a suo fianco oggi per lanciare la campagna elettorale il candidato alla presidenza della regione Marche legato particolarmente al settore ha sottolineato come stia morendo questo mercato di conseguenza anche l'indotto economico che crea la questione del dragaggio dei porti è una questione molto sentita a Fano in tutta la nostra regione noi riteniamo che la regione Marche debba intervenire sull'economia della pesca perché è un'economia importante perché ha un indotto importante che sta morendo tra le normative europee e l'indifferenza delle istituzioni locali credo che veramente si possa produrre un danno forte alla nostra ricchezza a spiegare i diversi problemi subiti dalla categoria è stato Sergio Ciavaglia dell'associazione Vongolai di Fano nonché pescatore da circa 30 anni non riusciamo a lavorare per più di 5-6 mesi l'anno ha detto Ciavaglia in più stiamo morendo di normative noi chiediamo che sia ridotta la misura da 20 millimetri anche perché da 25 a 20 millimetri anche perché la vongola è un diciamo un bollusco che si riproduce già a 15 millimetri le sanzioni sono pesantissime vanno dai 12 ai 12 mila euro nessuno si azzarda più a vendere vongole col rischio che ci sia anche una sola vongola sotto misura le immagini il direttore di un supermercato quanto gliene importa per vendere 30-40 kg di vongole rischiare un verbale di 2.000 euro o 4.000 euro tra l'altro con i suoi risvolti penali un altro problema poi è l'obbligo di pescare entro i 400 metri dalla costa oppure oltre i 1.000 escludendo quindi il vero habitat in cui si riproduce la vongola ci sono in qualche zona a onore del vero qualche diciamo dove si può giungere oltre i 1.000 metri ma la presenza delle vongole lì è più occasionale meno costante e quindi non sono zone con le quali si può fare reddito insomma si può si può fare programmare un futuro ecco si terranno mercoledì pomeriggio i funerali di Lamberto Finocchi il 72enne travolto e ucciso da un'auto guidata da un muratore albanese nel tardo pomeriggio di sabato scorso mentre attraversava la strada lungo la via cesanense nel comune di Monteporzo ieri pomeriggio si è aperta la camera ardente nell'ospedale Santa Croce di Fano mentre i funerali di Finocchi appunto conosciuto nella zona con il soprannome di Bibon si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe a Marotta ora parliamo di sanità il dottore Alberto Deales guiderà la direzione sanitaria di Marche Nord sostituisce Maria Teresa Montella che ha lasciato il ruolo per motivi personali spero che sia un bel viaggio e mi auguro di poter lasciare un segno nell'azienda Marche Nord durante questo mio nuovo percorso ha un curriculum di tutto rispetto il direttore sanitario Alberto Deales che questa mattina si è presentato alla stampa nella sala riunioni della direzione generale a Pesaro Deales che subentra a Maria Teresa Montella ha ringraziato il direttore generale Aldoricci per la fiducia e la stima che ha dimostrato nei suoi confronti affidandogli questo incarico che ha accettato sia per motivi professionali che affettivi con il territorio mi hanno spinto la condivisione del progetto che si sta portando avanti la conoscenza e la stima per il dottor Ricci e per chi mi ha preceduto la dottoressa Montella mi ha convinto anche il fatto che ho un legame affettivo con questo territorio perché ho lavorato in questa azienda per molti anni ho vissuto da cittadino della città di Fano per più di dieci anni quindi ho anche un legame affettivo con questo territorio e con queste città Quali sono secondo lei i punti che potrebbero essere migliorati? Ha parlato anche di un confronto con altre realtà? Credo che portare anche questi scambi questi partnership con alcune realtà molto avanzate per esempio nella gestione del rischio clinico piuttosto che nell'organizzazione dei percorsi sia un'opportunità e che io cercherò di concretizzare per questa azienda Il direttore generale Aldo Ricci ha ribadito che entro l'anno verranno nominati direttori di farmacia geriatria riabilitazione e ortopedia ma ha specificato anche che le assunzioni verranno fatte con criterio scegliendo i professionisti di cui hanno bisogno ha spiegato inoltre i motivi per i quali è stato scelto il dottor Deales cioè per le sue capacità umane e per l'ampia esperienza in regione in Asur dove ha portato avanti insieme ai vertici di tutte le aziende sanitarie ospedaliere le reti cliniche è stato inoltre uno dei protagonisti della pianificazione e programmazione della riorganizzazione marchigiana Ricci nell'accogliere il mio direttore sanitario ha ringraziato in modo particolare la dottoressa Montella per il percorso e il lavoro svolto nell'azienda La dottoressa Montella oltre che un grande professionista un'amica con cui collaboro da più di 30 anni mi ha dato una grossa mano nel venire a lavorare qui a Marche Nord la sua opera è stata tangibile ha avuto un ottimo rapporto con i professionisti purtroppo per ragioni familiari ha dovuto abbandonare con grande dispiacere però non si può fare meno di riconoscere il percorso delle persone quello che hanno fatto e il segno che hanno lasciato in ognuno di noi Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio divampato questa mattina intorno alle 9.30 in un casolare di campagna abbandonato in località Sant'Antonio di Fossombrone il rogo si è sviluppato nella stalla di vita a deposito di vecchi sedili legname di scarto e altro materiale è completamente crollato il tetto in eternit di un capannone a fianco del casolare i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme hanno anche messo in sicurezza un pozzo incustodito nell'area circostante sul luogo anche i carabinieri ed il personale dell'ARPAM per i rilievi ambientali anche per il 2015 il comune di Fano al comune di Fano è stata assegnata la bandiera blu e a ritirarla questa mattina a Roma sono stati il vice sindaco e l'assessore al turismo Stefano Marcheggiani con l'assessore all'ambiente Samuele Mascherin che hanno espresso la loro soddisfazione per questo riconoscimento nazionale Fano è tra le 17 località marchigiane a freggiarsi di questo simbolico titolo che ha un valore rilevante dal punto di vista turistico ambientale la bandiera blu è stata assegnata tra i vari porti marchigiani anche al porto turistico Marina dei Cesari sempre a Fano è stato presentato questa mattina dal sindaco Massimo Seri il programma del trentesimo anniversario del gemellaggio con la città tedesca di Rastat migliaia di turisti in città durante il prossimo fine settimana in cui si svolgeranno tre diversi eventi il trentennale del gemellaggio con Rastat che dal 14 al 17 maggio porterà circa 160 persone il campionato italiano di rugby con l'arrivo di 1300 ragazzi di scuole elementari e medie e l'ottava edizione di Sapori e Motori con 24 associazioni che collaborano all'iniziativa questa mattina il sindaco Massimo Seri ha presentato il ricco programma di appuntamenti turistici istituzionali e ludici organizzati in occasione dell'avvenuta a Fano degli amici tedeschi l'amministrazione ha avuto la collaborazione di tanti soggetti voglio ringraziare anche Sapori e Motori che ha voluto anticipare questa manifestazione proprio per arricchire l'offerta della nostra città nel periodo di bassa stagione queste sono le giuste risposte quando dico che anche se sono momenti difficili con creatività con collaborazione se facciamo squadra siamo in grado di dare risposte importanti coinvolta nell'organizzazione anche l'associazione Amici Senza Frontiere che per l'occasione ha realizzato un video con immagini che riassumono i 30 anni di attività condivisi tra le due città gemellate vediamo i momenti di vita dei vari sindaci che si sono succeduti ma soprattutto delle associazioni diciamo il rapporto anche addirittura quelle che non sono ufficiali tipo foresta nera mare blu che riguarda i ragazzi disabili perché abbiamo pensato anche a loro riguarda gli old boys la cannavalesca tutti quanti gli enti di Fano che hanno avuto rapporti in questi 30 anni con Rasta tra gli appuntamenti organizzati rientra la visita al museo della marineria alla darsena borghese e quella degli artisti di Rasta al San Michele ma anche il concerto dell'orchestra sinfonica Rossini al Teatro della Fortuna che eseguirà la nona sinfonia di Beethoven per venerdì invece è prevista un'escursione a Mondavio e la Gula del Furlo in mattinata mentre alle 21 e 15 spettacoli all'anfiteatro in Sassonia con l'esibizione degli sbandieratori tra cui quelli del gruppo storico La Pandolfaccia sabato pomeriggio alle ore 18 si terrà la cerimonia ufficiale in Sala Verdi mentre l'inaugurazione della manifestazione Sapori e Motori avrà luogo sabato mattina alle 11 e 30 novità assoluta di questa edizione sarà la location quest'anno abbiamo una location tutta nuova che è praticamente la spiaggia di Levante e la spiaggia di Sassonia devo dire che quest'anno la nostra manifestazione ha accolto all'interno un altro evento che si svolgeva a Fano che è appunto Let's Rock Tonight è un evento che promuove lo stile rockabilly degli anni 50 e quindi nelle tre serate avremo tutti i spettacoli dal burlesque e quant'altro proprio sullo stile anni 50 Novità anche per quanto riguarda gli stand gastronomici che non comprenderanno solo prodotti tipici locali ma anche tedeschi non mancheranno inoltre esibizioni di super motard con motori con oltre 100 cavalli motociclisti acrobati i mezzi d'epoca delle forze dell'ordine e una concessionaria Ferrari che farà provare la rossa a coloro che non possono permettersi di acquistarla soddisfatto anche il comitato Sassonia? Beh sì io credo di dover ringraziare tutto il comitato Sassonia in quanto in primo luogo sono tutti coinvolti diciamo con delle organizzazioni ma poi si hanno aiutato anche economicamente sono stato anche generosi quindi un veramente grazie di cuore Momenti di paura questa mattina a Cerasa di San Costanzo dove due auto una Citroen e una Fiat Punto condotte da due donne si sono scontrate tra loro una delle conducenti molto giovane è incinta l'incidente si è verificato alle 7.30 del mattino sulla strada provinciale orcianense all'altezza del campo di calcio di Cerasa la C3 condotta da una 24enne del posto al sesto mese di gravidanza stava procedendo in direzione Maremonte quando si è scontrata con la Punto guidata da una signora di 54 anni anche lei della zona che si stava immettendo nella provinciale da una strada secondaria la ragazza in stato interessante è stata portata in ospedale per accertamenti il campionato studentesco di rugby del centro Italia vedrà a Fano il 15 e il 16 maggio prossimi l'arrivo di oltre 1300 ragazzi di scuole elementari e medie oltre mille bambini una palla ovale è il Fano Rugby che promuove i valori di questo sport questi gli ingredienti fondamentali per portare il 15 e il 16 maggio a Fano i campionati nazionali di rugby delle scuole del centro Italia abbiamo strappato questa manifestazione ad altre città altrettanto blasonate però hanno scelto Fano in quanto è una realtà emergente del rugby nazionale e quindi li avremo già dal venerdì sera che pernotteranno qui con noi faremo un momento di festa al Lido dove ci saranno momenti di gioco e sarà possibile anche per i bambini che non conoscono il rugby di poter giocare insieme agli animatori della federazione insieme anche alla Polferre e al Fano Rugby ci sarà un momento di festa presenteremo tutte le squadre che partecipano a questo torneo torneo che porta bambini dalla campagna alla Puglia fino alla Toscana quindi abbiamo una buona fetta d'Italia e li avremo qua per fare questa festa e per giocare anche se nel rugby il risultato non è importante ma l'importante è divertirsi e giocare tutti insieme l'iniziativa che vede coinvolti 1300 bambini tra gli 8 e i 13 anni è la festa conclusiva del progetto Scuola questo è promosso e sponsorizzato dalla Federazione Italiana Rugby e si rivolge a tutti quei ragazzi che non hanno mai giocato a questo sport ma che in ambito scolastico hanno appreso le nozioni base per muovere i primi passi con la palla ovale confrontandosi inizialmente con le scuole vicine e partecipando infine a questi campionati nazionali gran parte quasi totalmente verrà ospitata sulla zona trave quindi tutti gli spazi ritenuti idoni alla trave quindi lo spazio del baseball la pista atletica e i due campi da calcio dei vicini ospiteranno la maggior parte dei campi e sarà previsto un campo satellite per le categorie più grandi a Sant'Orso soddisfatta dell'evento l'assessore allo sport del comune di Fano Caterina Delbianco l'invito che faccio è di partecipare a tutta la città a questo evento perché quindi si può assistere le scuole possono anche organizzarsi poi lo faremo lo comunicheremo con delle squadre e ci saranno dei momenti di festa perché il rugby è festa il venerdì alla zona del Lido grande successo per la quindicesima edizione del trionfo del carnevale che si è svolto a Fossombrone quasi 20.000 le persone presenti il trionfo del carnevale di Fossombrone ha dato il meglio di sé in questa quindicesima edizione offrendo uno spettacolo di grande fascino ai suoi spettatori infatti non si tratta di una semplice sfilata in costume storico ma di una vera e propria ricostruzione storica di quella che era la vita al tempo del cardinale Giulio della Rovere fratello del duca Guido Baldo II che arrivò a Fossombrone nel 1559 così come allora i popolani e i nobili della città sono stati i protagonisti del corteo di accoglienza del cardinale e hanno animato in tre giorni tutto il centro storico di Fossombrone con giostre gare e cortei con 800 figuranti in costume rinascimentale e le locande aperte dove si è potuto degustare il cibo di allora con ricette originali dell'epoca insomma un vero e proprio tuffo nel medioevo è nata una grande collaborazione ormai da due anni a questa parte che riesce a coordinare tutte queste iniziative che sono tantissime durante l'anno e ci rende veramente orgogliosi di essere Fossombronesi un impegno profondo e di mesi e mesi di lavoro della Proloco Forum Semproni con tutti i suoi adepti che hanno fatto sì che nei tre giorni ha preso vita inoltre un ampio mercato rinascimentale dove sono stati presenti tutti i mestieri del tempo svariati oggetti e tantissimi artisti che hanno coinvolto i presenti con animazioni d'effetto non sono mancati gli animali particolari i voli di rapaci i salti in banco e gli sputafuoco e naturalmente anche quest'anno i dodici quartieri si sono dati battaglia senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il Palio del Cardinale nel Campaccio la zona adibita appositamente sabato i giochi storici rinascimentali e domenica la prova clou dell'evento la Corsa all'Anello vince la quindicesima edizione del Palio del Cardinale ancora San Martino la sesta volta Campioni San Martino un applauso a Montecelso così al termine della giornata di domenica ad aggiudicarsi per il secondo anno consecutivo il Palio del Cardinale è stato il quartiere San Martino che ha festeggiato giustamente fino a tardasera la conquista del tanto agoniato drappello l'appuntamento quindi è per l'anno prossimo per un'altra spettacolare edizione del Trionfo del Carnevale e con il Trionfo del Carnevale si chiude qui la nostra edizione di Occhio alla Notizia grazie per averci seguito arrivederci a domani a l'automità di Occhio alla notizia